Resistenza è ri-esistenza, è esistere due volte. L'epoca dei feudatari è finita, i sudditi non esistono più, qui ci sono cittadini. E questo è il motivo che mi fa dire che qui non passerà. Sua frase, la Tav va sabotata. La Tav va sabotata, le cesoie sono utili perché servono a tagliare le reti. Resistenza, 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 resistenza. E ri-esistenza, esistenza. Esistere due volte. Io penso, io penso, che quella opera, che quella opera cadrà, cadrà. Non si farà, non si farà. Quella cantiere a Chiomonte. Quella cantiere a Chiomonte. Verrà chiuso, verrà chiuso. Questa battaglia nasce localizzata in quel posto, in quella Val di Susa, dove una procura della Repubblica ha voluto, ha inteso la sua funzione come repressione di un movimento di massa. Negli ultimi due anni quella procura della Repubblica ha procurato circa un migliaio di incriminazioni. Dunque c'è una volontà di repressione di un movimento di massa. Resistenza, resistenza. E ri-esistenza, esistenza. Esistere due volte, esistere due volte. Aveva detto che la Tav Torino e Lione andrebbe sabotata. Va sabotata. Va sabotata. Perché l'ha sabotata? Resistenza. Si sa già che la Tav non si farà. Ma intanto cercano di cavare da quel buco il massimo di profitto possibile. Come è successo per un mucchio, centinaia di opere pubbliche, di grandi opere pubbliche del nostro paese, che sono rimaste così a metà. Quella cantiere a Chiomonte verrà chiuso. La Tav non si farà. E lo sappiamo tutti. Lo sanno tutti. Lo sanno anche quelli che stanno continuando a scavare il buco. Ma cercano di raffare quanto più possibile. Io penso, io penso, che quella opera, che quella opera cadrà. Cadrà. Siamo il paese che ha il più alto grado di corruzione in Europa e la minore libertà di stampa. Voglio dire che la nostra libertà di stampa dipende dal fatto che oggi i giornalisti non sono dei professionisti della informazione, ma sono per la gran parte degli impiegati di un'azienda. Per me, insomma, si tratta presso di noi di una stampa embedded, cioè al seguito delle truppe, insomma, intruppata dentro la versione ufficiale. Resistenza, 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 resistere, 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 tu in un'intervista a Duffington Post hai detto la Tav va sabotata, ecco perché servono le cesoie, sono utili a tagliare le reti. La Tav, la Tav va sabotata, va sabotata. Quando esiste una prepotenza di Stato esiste anche una resistenza, il diritto di resistenza di una comunità. Resistenza, resistenza. Incriminarmi per la parola che io ho detto sabota il mio diritto di parola, contraria. E' ri-esistenza, esistenza. Non intendo fare appello, per quello che, se queste mie parole sono considerate un crimine, continuerò a commetterlo e dunque sono un reo confesso. Resistere, tu a continuare a dire che la Tav va sabotata. Sì, sì, possono imprigionare il mio corpo, ma non certo non possono mettere le manette, non possono imprigionare queste parole che sono quelle che appartengono a una comunità in lotta. Resistenza, resistenza. Anche perché io penso che quella opera cadrà, non si farà. Quella cantiere a Chiomonte verrà chiusa. Resistenza, resistenza. Qui, 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 non passerà niente, non passerà niente. Resistenza, resistenza. Non si farà, non si farà. Cadrà, cadrà, verrà chiuso, verrà chiuso. La Tav, la Tav, andrebbe, andrebbe, sabotata, sabotata. Va sabotata, va sabotata. Resistenza, resistenza. Resistenza, resistenza. Resistenza, resistenza. E ri-esistenza, cioè, esistenza. Esistere due volte. Allora, la Tav, la Tav, la Tav.